Abbiamo iniziato un proprio apprezzatore, noi con la nostra organizzazione riusciamo a sistemare, a ritirare e a portarli da velocemente e a tutto quello che abbiamo consegnato, con nostra grande soddisfazione abbiamo visto che stanno utilizzando specialmente i due paure operatori, con l'appare a Cermigo, in Ucraina, è la regione purtroppo famosa, dove c'è il nostro gesto di Stato Roma, a Cermigo questi bambini vengono da un San San Lina da anni 60-70 e poi sviluppiamo anche per far conoscere la loro cultura con i scambi culturali il prossimo 11 gennaio arriverà l'ambasciatore a conoscerci meglio per sentire a parlare Grazie